ciao allora ebbene sì stranamente ho fatto shopping e questa volta se avete visto l'anteprima ma bottega verde cioè la busta che è più grande di me quindi adesso vi faccio vedere tutto quanto che alla fine adesso tiro fuori e vi mostro con scontrino alla mano alla fine guardando bene tutte le promozioni tutte le varie offerte le cartoline che arrivano a casa gli sms le promozioni e tutto quanto si possono trovare delle cose interessanti ora ve le mostro allora prima di tutto partiamo con crema mani al pepe rosa questa da 75 ml prezzo di listino sarebbe 12 99 scontati 9 euro quindi l'ho pagata 3 euro e 99 ed era una cartolina combinata con eccolo qui balsamo labbra della vaniglia nera questo qui che tanto devo aprire quindi con il balsamo labbra classico che veniva 9 99 sconto di 8 euro e 99 quindi l'ho pagato un euro perché perché c'era la combo di una crema mani e un balsamo labbra a 4 euro e 90 quindi li ho pagate a questo così poi andiamo avanti perché c'era un'altra promozione interessante ma adesso ve la mostro perché sono anche prodotti nuovi allora terra compatta abbronzante con estratto di camellia e vitamina e questa qui che adesso la apro questa 8 grammi il colore è il nocciola che è più chiaro comunque sia intanto vediamo il prezzo qua veniva 17 e 99 con uno sconto di 12 99 pagata 5 euro 5 euro tondi ed è questa qui bella la confezione molto bella ok con lo specchio e questa appena un po di colore appena appena un po di colore bella mi piace soprattutto appena appena si vede mi può piacere adesso comunque la testerò e questa qui è opaca ovviamente e quindi abbiamo detto che l'ho pagata 5 euro mettiamo via perché la testerò poi dopo fondo tinta questo fondo tinta no transfer con estratto di orchidea e vitamina e no transfer foundation ok questo qui che è 30 ml è nel colore 0 2 beige oltretutto era l'ultimo subito sembrava che non ci fosse in espositore poi la ragazza me l'ha trovato l'ultimo fondo tinta vediamo lo scontrino 21 99 scontato di 16 99 pagato 5 euro tondi questo qui questo lo proverò a breve vediamo esatto mi ricordavo bene dice di essere no transfer e noi testeremo questo certo che asciuga velocemente e poi si fonde perfettamente con la pelle quindi è proprio il colore giusto poi dopo altra cosa aspettate che asciugo il fondotinta altra cosa eccolo qua questo è il primer fissante per ombretto con estratti di papaya e mirtillo nero tenuta impeccabile questo qui che è un 10 ml adesso intanto lo apriamo e guardiamo lo scontrino 15 99 scontato di 10 99 l'ho pagato 5 euro questo qui lo lascio fuori dopo perché lo inizio a provare subito applicatore pratico profumo molto profumato e una volta applicato risulta invisibile asciuga velocemente questo sicuro lo proveremo anche questo come vi ho detto questo qua lo lascio fuori perché va subito nella beauty collection per provarlo allora perché avevo tre prodotti scontati con uno sconto così alto aspettate che li metto via per avere tre prodotti a 5 euro quindi con la cartolina e avevo in promozione questo set a vediamo se me lo ricordo lo troverò mai si 2 euro e 99 l'ho trovato questo set eccolo è il nuovo moringa defense quindi è la nuova linea moringa defense che volevo provare quindi adesso vi mostro i prodotti quindi ricordiamoci che è un 2 euro e 99 queste quelle per pelli da miste grasse bello anche il beauty molto carino e dentro abbiamo i tre prodotti che sono bello il beauty molto grande dentro comunque i tre prodotti sono moringa defense crema gel viso detox illuminante anti rughe da 20 ml poi sempre 20 ml moringa defense crema notte rinnovatrice e un 5 ml sempre moringa defense crema con tornocchi detox illuminante sono delle belle taglie perché comunque 20 ml mi dura tanto quindi posso usare tranquillamente per più di un mese e posso testarlo bene a dei prezzi comunque sia cioè super promozionali poi altri prodotti comunque sia quei tre prodotti a 5 euro perché ha spesa minima di 15 euro per avere il questo set e intanto ho preso super scontati avete visto dei prodotti nuovi che comunque posso provare e parlarvele con voi poi mi sembra di aver preso un ultimo prodotto ah sì eccolo questo che è la novità mascara allunga ciglia con proteine della seta e vitamina e questa è la mini taglia infatti 5,5 ml costava 7,99 sconto di 6 euro l'ho pagato 1,99 euro abbiamo detto allunga ciglia vediamo bello l'applicatore anche questo lo lascio fuori perché andrà in test subito e quindi lo proviamo allora dunque 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 scontrino alla fine a prezzo pieno questi prodotti sarebbero venuti 101,93 euro quindi davvero come sempre attenzione alle promozioni perché io ho pagato 24,97 euro e oltretutto avevo anche un coupon per 20 punti in più sulla tessera così lo sconto ma ho sperato di farvi vedere i campioncini che abbiamo due di avena crema viso pelli delicate o sensibili due di questi e li proviamo e poi mela verde lime shampoo questo che è fantastico questo è fantastico ve lo dico già adesso lo sto provando ed è fantastico e quindi fatemi sapere se vi è piaciuto questo video se vi interessa qualche prodotto e quale volete che vi recensisco per prima poi la pochette è carina mi sa che la metto in borsa subito direttamente fatemi sapere se vi è piaciuto il video e mi raccomando di mettermi un like iscrivervi al canale ed cliccare anche sulla campanella così verrete avvisato ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao ciao